Leggere attentamente le istruzioni Inleva pelucchi Si prega di tenere trimmer capelli asciutti. Abbattere la plastica esterna netta guardia alla leggera e usarlo per tagliare corto fluff. Se si vuole rimanere a lungo fluff, la sua è inutile prendere la rete guardia, in questo modo è principalmente applicabile al tappeto o bene i fluff lunghi. Non trun sul trimmer dopo aver premuto la sua rete di coltello, che è quello di garantire l'utilizzo di sicurezza. Spostare i capelli trimmer veloce sulla lanucine che si desidera tagliare. Spegnere regolatore di capelli. Coperchio della guardia compensate, coprire per evitarlo rotto. Regolarmente la pulizia o cercare nell'armadio di trimmer capelli, se è pieno di lanucine, si prega di prendere giù l'armadio, e togliere la lanucine con pennello, o parte a mano. Si prega di smontare giù l'armadio secondo l'indicazione di punta di freccia, tirare fuori, e installarlo in modo montaggio. Prima trimmer capelli puliti, assicurarsi che il trimmer è truned, off. Staccare la spina chiacca W di trimmer capelli dalla presa di sorgente elettrica. Produttore parte per sé stessa proprio sul cambiamento di alcune caratteristiche tecniche, senza preavviso preliminare del consumatore. Sulla causa di ulteriori informazioni o in caso di origine di alcuni problemi applicano centri di servizio, che l'indirizzo è specie, ed intagliando di garanzia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.